non è satana a decidere la dipartita delle persone ciò è dimostrato dalla storia della cristianità il riferimento è ai vari santi e sante che sottoposti a supplizi inenarrabili ne sono usciti indenni per poi morire solo e soltanto quando Dio lo ha permesso inoltre lo conferma Gesù stesso nell'Evangelo rivelato a Maria Valtorta quando asserisce nessuno passa alla vita eterna senza l'assenso del mio eterno padre un capitolo a parte è rappresentato dagli spericolati ossia dalle persone che mettono a rischio la loro vita per motivi futili in merito a costoro Maria Simma apostola delle anime purganti riferì che le anime del purgatorio le avevano detto che le anime delle persone che perdono la vita nel corso di azioni volutamente spericolate nei casi in cui Dio permette che muoiano ben inteso per decreto di Dio queste anime trascorrono in purgatorio soffrendo molto di più di quanto non si soffra qui sulla terra proprio il numero di anni che Dio aveva designato per la loro dipartita terrena Maria Simma fece anche un esempio dicendo che un giovane spericolato morto ad esempio in moto a vent'anni per il quale Dio aveva stabilito una vita terrena di ottant'anni per decreto di Dio egli trascorrerà soffrendo in purgatorio i sessant'anni che avrebbe dovuto vivere sulla terra quindi ottanta meno venti sessanta infine è bene ricordare un'altra frase che Gesù ha proferito nell'Evangelo rivelato a Maria Valtorta Gesù ha detto è il padre che decide quando ciascuna persona deve nascere e quando deve morire naturalmente Dio è libero di fare tutte le eccezioni che ritiene ma questa è una frase di Gesù e quindi corrisponde a verità quindi per tutto ciò non è Satana mediante i suoi sicari terreni a decidere quando ciascuna persona deve morire ma è Dio solo e soltanto Dio anche se a noi spesso sembra il contrario beh non è sempre non è negli ma non è no